capitolo 12 ricominciarono ad amarsi spesso durante la giornata Emma gli scriveva un biglietto dicendogli di venire subito poi attraverso i vetri faceva segno a Justin che togliendosi in fretta il grembiule si avviava di corsa verso la uscette Rodolphe arrivava per sentirsi dire da Emma che si annoiava che suo marito era odioso e la vita orribile e io che cosa ci posso fare gridò un giorno spazientito ah se tu volessi Emma era seduta in terra fra le sue ginocchia i capelli sciolti lo sguardo perduto nel vuoto cosa vuoi dire fece Rodolphe Emma sospirò potremmo andare a vivere altrove in qualche luogo ma tu sei proprio pazza ribatte lui ridendo ma ti pare possibile Emma però tornò sull'argomento lui finse di non capire e cambiò discorso non si rendeva conto del perché di tante complicazioni in una cosa semplice come l'amore ma Emma aveva uno scopo un'altra ragione che accresceva il suo attaccamento la tenerezza di lei nei confronti dell'amante aumentava infatti ogni giorno di pari passo con la ripugnanza per il marito quanto più si abbandonava all'uno tanto più detestava l'altro Charles non le era mai sembrato tanto sgradevole con quelle dita quadrate l'intelligenza ottusa le maniere volgari come quando si ritrovava con lui dopo i convegni con l'amante e allora pur continuando a far credere di essere una sposa virtuosa si infiammava pensando a Rodolphe ai suoi capelli neri che si piegavano in un'onda sulla fronte abbronzata alla figura di lui così robusta e al contempo elegante a questo uomo il quale dimostrava tanta lucidità di intelletto e tanto trasporto nel sentimento per lui si limava le unghie con la cura di un cesellatore per lui curava l'aspetto del proprio viso senza risparmio di creme e profumava i propri fazzoletti con fiumi di lavanda si copriva di braccialetti di anelli di collane quando sapeva che sarebbe venuto riempiva di rose i grandi vasi di vetro blu e preparava se stessa e la propria camera come una cortigiana in attesa del principe la domestica non faceva che lavare biancheria e felicitè non si muoveva dalla cucina dove giustaine le teneva spesso compagnia guardandola lavorare con il gomito appoggiato sulla lunga asse ove lei stirava osservava avidamente tutti gli indumenti femminili sparsili attorno le sottovesti di stoffa morbida le sciarpe i colletti e le mutandine a guaina larghe sui fianchi e strette verso il basso a cosa serve questo domandava il ragazzotto passando la mano sulla crinolina o sulla fibbia ma non hai mai visto niente rispondeva ridendo felicitè come se la tua padrona la signora o me non ne portasse di uguali ah sì proprio proprio la signora o me e aggiungeva cogita bondo non è davvero una signora come la sua ma felicitè perdeva la pazienza a vederselo continuamente dintorno aveva sei anni più di lui e theodore il domestico del signor guillemaine cominciava a farle la corte lasciami in pace diceva spostando il vaso dell'amido va piuttosto a pestare le mandorle stai sempre a curiosare in mezzo alle donne aspetta per occuparti di queste cose ragazzaccio di avere la barba sul mento non si arrabbi via l'aiuterò a lucidare gli stivaletti della sua padrona e andava subito a prendere sulla mensola del camino le scarpe di emma tutte incrostate di fango il fango degli appuntamenti che si staccava sotto le sue dita come polvere sottile lui la guardava salire ad agio in un raggio di sole quanta paura hai di rovinarle diceva la domestica che non ci metteva tanta attenzione quando le puliva perché la padrona appena la stoffa era un po logora gliele regalava emma ne aveva un gran numero nell'armadio e le sciupava senza riguardo e senza che charles si permettesse la più piccola osservazione così sborsò anche 300 franchi per una gamba di legno che emma giudicò di dover regalare ai polit la parte di legno era ricoperta di sughero e l'arto era fornito di articolazioni a molla un meccanismo complicato nascosto da un pantalone nero che terminava con una scarpa verniciata ma i polit non osava servirsi tutti i giorni di una così bella gamba e supplicò la signora bovary di procurargliene una più pratica fu sempre il medico beninteso a pagare anche per quest'altro acquisto il mozzo di stalla poco alla volta riprese a lavorare lo si vedeva come prima per le vie del villaggio e quando charles sentiva di lontano sull'acciottolato il rumore secco della gamba di legno cambiava strada il più rapidamente possibile il signor l'heureux il mercante era stato incaricato di procurare la gamba di legno questo gli fornì l'occasione di frequentare emma parlò con lei dei nuovi arrivi da parigi di mille nuovi articoli per le signore fu assai compiacente e non chiese mai denaro emma si lasciò allettare da tanta facilità di appagare i suoi capricci volle per farne dono a rodolphe un bellissimo frustino che era in vendita a rouen in un negozio di ombrelli il signor l'heureux glielo fece avere a casa la settimana successiva ma l'indomani si presentò con un conto di 270 franchi senza tener conto degli spiccioli emma si trovò in un grave imbarazzo tutti i cassetti dello scrittoio erano vuoti dovevano ancora pagare più di 15 giorni all'estibudo a due trimestri alla domestica un'infinità di altri conti e bovary aspettava con impazienza il saldo dell'onorario da parte del signor de rosre il quale come faceva di solito tutti gli anni l'avrebbe mandato nel periodo prossimo al giorno di san pietro per un po emma riuscì a tenere a bada l'heureux ma a un certo punto questi perse la pazienza lo perseguitavano era a corto di capitali e se non fosse riuscito a recuperarne almeno una parte sarebbe stato costretto a riprendersi tutta la merce che le aveva fornito e se la riprenda disse emma oh ho scherzato rispose lui rimpiango soltanto il frustino davvero me lo farò ridare da suo marito no no disse emma ah adesso ti ho impugno pensò l'heureux e persuaso di essere sulla buona strada uscì ripetendo sottovoce come se stesse fischiettando secondo la sua abitudine bene si vedrà si vedrà emma intanto si arrovellava cercando il modo di togliersi da quel pasticcio quando la domestica entrò e depose un piccolo rotolo di carta turchina sul caminetto da parte del signor de rosre la signora bovary si precipitò a prenderlo e lo aprì conteneva 15 napoleoni quanto bastava sentì charles sulle scale nascose l'oro in fondo ad un cassetto e ne tolse la chiave tre giorni dopo l'heureux si fece vivo ho un accordo da proporle disse se in luogo della somma patuita volesse prendere eccola disse emma mettendogli in mano 14 napoleoni il mercante rimase sterrefatto per dissimulare il disappunto si profuse in scuse in offerte di servigi che emma rifiutò poi per qualche minuto ella continua a tenere fra le dita nella tasca del grembiule i due pezzi da 100 soldi che il mercante le aveva dato di resto si riprometteva di fare economia per poter restituire più tardi ah si disse non se ne accorgerà oltre al frustino dal pomodorato rodolphe aveva ricevuto un sigillo con inciso il motto amore nel cor e poi una sciarpa invernale e un porta sigarette identico a quello del visconte che charles aveva raccolto quel giorno sulla strada e che emma conservava ancora questi regali lo umiliavano e ne rifiutava molti ma emma insisteva e rodolphe finiva per cedere trovando la tirannica e troppo invadente ella aveva anche delle strane idee quando suonerà mezzanotte gli diceva penserai a me e se lui confessava di non essersene ricordato lo rimproverava a lungo terminando con l'eterna domanda mi ami ma sì ti amo rispondeva rodolphe molto sicuro e non hai amato mai nessun'altra pensi di avermi preso vergine esclamava lui ridendo emma piangeva rodolphe cercava di consolarla infiorando di giochi di parole le sue proteste d'affetto oh ma è perché ti amo insisteva lei ti amo tanto da non poter vivere senza di te capisci certe volte provo un tale desiderio di vederti che mi sento lacerare da tutte le furie dell'amore mi domando dov'è in questo momento forse con altre donne gli sorridono lui si avvicina o no non è possibile ce n'è qualcuna che ti piace lo so ce ne sono di più belle di me ma io so amarti meglio sono la tua serve la tua concubina tu sei il mio re il mio idolo sei buono sei bello sei intelligente sei forte si era sentito dire tante volte tutte queste cose che ormai non avevano per lui più niente di originale emma non era diversa dalle altre amanti e il fascino della novità accadendo a poco a poco come un abito metteva nudo l'eterna monotonia della passione che ha sempre le stesse forme e lo stesso linguaggio rodolphe non distingueva da uomo pieno di senso pratico la differenza dei sentimenti celata dall'identità di espressione poiché labbra viziose o venali gli avevano mormorato frasi simili non attribuiva molta importanza al candore di emma è necessario pensava ridimensionare i discorsi esagerati che spesso nascondono sentimenti mediocri come se talora la passione eccessiva non traboccasse dall'anima servendosi delle più vuote metafore perché nessuno mai può dare l'esatta misura delle proprie necessità delle proprie concezioni o dei propri dolori dato che la parola umana è simile a un calderone incrinato da cui è facile trarre una musica adatta per far ballare gli orsi quando vorremmo commuovere le stelle ma da quella posizione privilegiata di critica nella quale viene a trovarsi colui che in qualsiasi impegno si tiene sempre indietro rodolf scorse in questo amore altri godimenti da sfruttare giudicava scomoda ogni forma di pudore trattava emma senza riguardi ne fece qualcosa di duttile e corrotto il suo era una specie di attaccamento idiota pieno di ammirazione per se stesso di volutà per emma era una beatitudine che lui intorpidiva e la sua anima affondava in quell'ebrezza e vi annegava raggrinzita come il duca di clarence nella sua botte di malvasia la signora bovary cambiò i propri atteggiamenti soltanto per l'influenza esercitata dalle sue abitudini amorose gli sguardi di lei divennero più arditi i discorsi più liberi e commise perfino la sconvenienza di passeggiare con rodolf fumando una sigaretta quasi a voler manifestare il proprio disprezzo per la gente e alla fine anche coloro che ancora dubitavano finirono per non dubitare più quando la videro scendere dalla rondine con la vita stretta da un panciotto come un uomo la signora bovary madre venuta a rifugiarsi dal figlio dopo una spaventosa scenata con il marito rimase scandalizzata certo non meno di tutte le brave borghesi di yonville e molte altre cose le dispiacquero innanzitutto charles non aveva seguito i suoi consigli per quanto concerneva le letture di emma e inoltre ella non approvava l'andamento di quella casa si permise alcune osservazioni e ne derivarono situazioni incresciose soprattutto una volta a proposito di felicità la signora bovary madre la sera prima nell'attraversare il corridoio l'aveva sorpresa in compagnia di un uomo dalla barba nera di circa 40 anni il quale al rumore dei suoi passi era scappato in fretta dalla cucina emma rise ma la buona signora si adierò dichiarando che se una padrona di casa non si infischia dei buoni costumi ha l'obbligo di curarsi di quelli dei domestici ma in che mondo vive disse la nuora con uno sguardo tanto impertinente che la suocera le domandò se per caso non difendesse la propria causa fuori fece emma alzandosi di scatto emma mamma gridava charles per rapacificarle ma in preda all'esasperazione se ne erano già andate entrambe emma batteva i piedi in terra ripetendo ah che maniere che villana charles corse dalla madre ella era fuori di sé balbettava è un insolente una testa vuota e forse peggio voleva partire subito se la nuora non le avesse chiesto scusa charles tornò allora dalla moglie la scongiurò di cedere si mise in ginocchio emma finì per rispondere e va bene ci vado in realtà tese la mano alla suocera con la dignità di una marchesa dicendo mi voglia scusare signora poi risalì in camera si gettò bocconi sul letto e pianse come una bambina con la testa affondata nel guanciale si erano accordati lei e rodolphe nel senso che se fosse accaduto qualcosa di insolito emma avrebbe attaccato a una persiana un foglio di carta bianca in tal caso trovandosi a yonville egli sarebbe accorso nel viottolo dietro la casa emma fece il segnale convenuto trascorsero tre quarti d'ora e per un attimo scorse rodolphe all'angolo del mercato fu tentata di aprire la finestra e di chiamarlo ma era già scomparso ricadde a sedere disperata quasi subito le sembrò di sentire un passo sul marciapiede era lui di certo scese le scale e attraversò il cortile lo vide là fuori si gettò nelle sue braccia sta attenta disse lui ah se tu sapessi rispose emma e si mise subito a raccontargli tutto in fretta disordinatamente esagerando i fatti inventandone molti e con una tale abbondanza di incisi che rodolphe non riuscì a capire nulla via povero angelo coraggio non te la prendere abbi pazienza ma sono quattro anni che paziento che soffro un amore come il nostro dovrebbe farsi conoscere dall'intero universo mi stanno torturando non ne posso più salvami si stringeva a rodolphe gli occhi pieni di lacrime le balenavano come fiamme sott'acqua la gola le palpitava costretta da rapidi singulti non l'aveva mai amata tanto perdette la testa e le domandò cosa si dovrebbe fare cosa vorresti portami con te gridò lei rapiscimi te ne supplico e si gettò sulla sua bocca come per strappare un assenso imprevisto e alitato in un bacio ma soggiunse rodolphe cosa c'è ancora e tua figlia emma riflettè un momento poi rispose tanto peggio la prenderemo con noi che donna si disse rodolphe guardandola allontanarsi emma stava attraversando di corsa il giardino qualcuno la chiamava il giorno dopo la signora bovary madre si stupì molto del cambiamento intervenuto nella nuora emma infatti si mostrò più docile e spinse la sua deferenza fino a domandare alla suocera una ricetta per mettere i cetriolini sott'aceto si comportava così per ingannare meglio l'una e l'altro oppure per una sorta di masochismo per sentire ancora di più l'amarezza inflittale dalle cose che stava per abbandonare non se ne curava piuttosto viveva perduta nella contemplazione dell'ormai vicina felicità e con rodolphe ne parlava continuamente appoggiandosi alla sua spalla mormorava quando saremo sulla diligenza ma ci pensi lo credi possibile mi sembra che quando sentirò la carrozza partire sarà come se stessi alzandomi in pallone come se stessimo salendo verso le nuvole lo sai che conto i giorni e tu la signora bovary non era mai stata bella come in questo periodo possedeva quell'indefinibile bellezza che proviene dalla gioia dall'entusiasmo dal successo e che deriva dall'armonia dello spirito con le circostanze le sue bramosie gli affanni l'esperienza del piacere le illusioni sempre vive come accade con i fiori grazie ai fertilizzanti al sole ai venti e alle piogge l'avevano a poco a poco fatta maturare ed ella sbocciava ormai nel pieno della fioritura le palpebre di lei sembravano tagliate apposta per i lunghi sguardi amorosi in cui la pupilla si perde mentre un sospiro profondo dilatava le narici minute e rialzava l'angolo carnoso delle labbra che in piena luce erano ombreggiate da una lieve peluria scura si sarebbe detto che un artista abile in seduzione avesse disposto sulla sua nuca la treccia dei capelli questi ultimi erano raccolti con negligenza in una massa pesante a seconda delle vicende dell'adulterio che li scioglieva ogni giorno la voce ora aveva inflessioni più morbide la figura atteggiamenti più nobili qualcosa di sottile e di penetrante si sprigionava perfino dalle pieghe dell'abito e dalla curva del piede charles come nei primi tempi del matrimonio la trovava deliziosa e del tutto irresistibile quando rientrava a notte alta non aveva il coraggio di svegliarla la lampada da notte di porcellana disegnava sul soffitto una chiazza di luce rotonda e tremolante e le tendine chiuse della culla sembravano una capannuccia bianca che si delineasse accanto al letto nell'ombra charles indugiava guardandole credeva di sentire il respiro lieve della bambina adesso stava crescendo ogni stagione avrebbe portato un rapido progresso la vedeva già tornare da scuola al tramonto tutta ridente con il grembiale macchiato di inchiostro e il panierino infilato al braccio poi avrebbe dovuto mandarla in collegio e questo gli sarebbe venuto a costare parecchio come fare vi pensava fin da ora meditava di prendere in affitto una piccola fattoria nei dintorni l'avrebbe sorvegliata lui stesso tutte le mattine andando a visitare i malati avrebbe messo da parte il reddito depositandolo alla cassa di risparmio in seguito avrebbe acquistato delle azioni da qualche parte non importa dove e poi la clientela sarebbe aumentata ci contava perché voleva che bert fosse allevata bene e che se aveva talento imparasse a suonare il pianoforte ah come sarà graziosa più tardi quando rossomigliando a sua madre porterà come lei d'estate grandi cappelli di paglia di lontano le scambieranno per due sorelle se la immaginava la sera mentre avrebbe lavorato vicino a loro al lume della lampada gli avrebbe ricamato le pantofole e si sarebbe occupata dell'andamento della casa rallegrata dalla gentilezza e dal buon umore di bert e infine pensava alla sua sistemazione si sarebbe pur trovato un bravo giovane con una solida posizione capace di renderla felice e questa felicità sarebbe durata sempre emma non dormiva fingeva di essere addormentata e mentre charles si assopiva al suo fianco viveva altri sogni al galoppo di quattro cavalli da otto giorni era trasportata verso paesi nuovi dai quali non avrebbe più fatto ritorno andavano e andavano abbracciati e senza parlare spesso dall'alto di una montagna scorgevano all'improvviso qualche splendida città con le sue cupole i ponti le imbarcazioni i boschetti di limoni e le cattedrali di marmo bianco i cui campanili a guzzi ospitavano nidi di cicogne procedevano al passo a causa delle grandi pietre del selciato e c'erano per terra mazzi di fiori che le donne in corsetto rosso offrivano ai viaggiatori si sentivano suonare le campane nitrire i muli insieme con gli accordi delle chitarre e il mormorio delle fontane il cui vapore andava a rinfrescare cumuli di frutta disposta a piramide ai piedi di pallide statue sorridenti sotto gli zampilli dell'acqua e poi una sera arrivavano in un villaggio di pescatori dove le reti scure asciugavano al vento lungo le scogliere e vicino alle capanne qui si sarebbero fermati avrebbero abitato in una casa bassa dal tetto a terrazza all'ombra di un palmizio in fondo a un golfo sulla riva del mare avrebbero fatto gite in gondola si sarebbero cullati sulle amache conducendo un'esistenza placida e comoda come gli abiti di seta che avrebbero indossato un'esistenza tutta calda e stellata come le dolci notti dalle quali erano attesi purtroppo sull'immensità di questo avvenire evocato da emma non accadeva niente di rilevante i giorni uno più bello dell'altro si somigliavano come le onde e l'avvenire si dondolava all'orizzonte infinito armonioso azzurrino e pieno di sole ma la bimba tossiva nella culla oppure bovary russava più sonoramente ed emma finiva per addormentarsi soltanto al mattino quando l'alba scoloriva i vetri della finestra e justine sulla piazza già apriva le vetrine della farmacia emma aveva chiamato il signor l'heureux e gli aveva detto avrei bisogno di un mantello grande con il collo ampio e foderato ha intenzione di fare un viaggio domando lui no ma cosa c'entra posso contare su di lei vero e faccia presto il mercante si inchinò mi occorrerebbe anche un baule continuò lei non troppo pesante e comodo sì sì capisco di circa 92 centimetri per 50 come li fanno adesso e anche un necessaire da notte decisamente pensò l'heureux qui c'è sotto un pasticcio prenda disse la signora bovary togliendosi l'orologio dalla cintura prenda questo e si paghi ma il mercante protestò dicendo che non era proprio il caso si conoscevano aveva mai dubitato di lei che ridicolaggine emma insistette affinché accettasse almeno la catena l'heureux se l'era già messa in tasca e se ne stava andando quando si sentì richiamare tenga tutto lei in quanto al mantello emma parve riflettere per un momento non lo porti qui affatto mi darà soltanto l'indirizzo del sarto e lo avvertirà di tenerlo a mia disposizione la fuga era fissata per il mese successivo emma sarebbe partita da yonville come se avesse dovuto recarsi a rouen per commissioni rodolphe avrebbe fissato i posti chiesto i passaporti e addirittura scritto a parigi per avere una vettura diretta fino a marsiglia dove avrebbero acquistato un calesse per proseguire senza fermarsi lungo la strada di genova emma pensava di mandare il bagaglio dall'heureux il quale lo avrebbe fatto portare direttamente sulla rondine in maniera che nessuno potesse sospettare di nulla e in tutti questi preparativi non si accennava mai alla bambina rodolphe evitava di parlarne e forse emma non ci pensava rodolphe volle ancora due settimane di tempo per sistemare alcune cose poi quando erano trascorsi otto giorni ne chiese altri 15 in seguito disse di non sentirsi bene e successivamente fece un viaggio il mese di agosto trascorse e dopo tutti questi rinvi stabilirono irrevocabilmente la data del 4 settembre un lunedì finalmente si giunse al sabato l'antivigilia della partenza rodolphe quella sera arrivò più presto del solito sei pronto domando emma sì fecero un giro intorno alla iuola e andarono a sedersi vicino alla terrazza sulla sommità del muricciolo sei triste disse emma no perché e intanto la guardava in maniera strana con tenerezza è perché te ne vai continuò lei lasci i tuoi affetti la tua vita capisco io invece non ho niente al mondo tu sei tutto per me e quindi anch'io devo essere tutto per te sarò la tua famiglia la tua patria ti sarò vicina ti amerò come sei bella disse egli stringendola fra le braccia davvero fece emma con una risatina voluttuosa mi ami giuralo allora se ti amo se ti amo ma ti adoro amore mio la luna piena color porpora stava sorgendo bassa sull'orizzonte in fondo alla distesa dei prati saliva veloce fra i rami dei pioppi che di tanto in tanto la nascondevano infine apparve elegante nel suo candore nel cielo sgombro e rischiarato dalla sua luce e rallentò lasciando cadere sul fiume una grande striscia fatta di stelle e questo luccichio d'argento sembrava torcersi da cima a fondo come un serpente senza testa coperto di squame luminose somigliava anche a un mostruoso candelabro dal quale colasse un uscello di gocce di diamanti fusi intorno a loro era la notte tiepida chiazze d'ombra impivano il fogliame emma gli occhi socchiusi aspirava con profondi sospiri il vento fresco che stava soffiando tacevano entrambi troppo assorti nelle fantasticherie dei propri sogni nei loro cuori tornava tutta la tenerezza dei vecchi tempi copiosa e tacita come il fiume che scorreva tanto dolcemente così come era dolce il profumo delle sassifraghe e proiettava nei ricordi ombre più vaste e malinconiche di quelle allungate sull'erba dai salici immobili spesso si udivano le foglie frusciare smosse da qualche animale notturno un riccio o una donnola a caccia di prede o il tonfo di una pesca matura che cadeva da sola dalla spalliera che bella notte disse rodolphe ne avremo altre rispose emma e come parlando a se stessa si sarà bello viaggiare perché mi sento triste allora è la paura dell'ignoto il disagio di dover cambiare abitudini o piuttosto no è la troppa felicità che donna da poco sono vero perdonami sei ancora in tempo esclamò lui rifletti potresti pentirtene poi forse mai disse emma con slancio e facendogli si più vicina che cosa potrebbe accadermi non esistono deserti né precipizi né oceani che non affronterei con te vivendo insieme verrà a crearsi fra noi un legame ogni giorno più stretto più completo non vi sarà mai nulla che possa turbarci né preoccupazioni né ostacoli saremo soli ci apparteremo per sempre parla rispondimi rodolphe rispondeva sì sì a intervalli regolari emma gli passò le mani fra i capelli ripetendo con voce infantile sebbene avesse il volto rigato da grosse lacrime rodolphe rodolphe mio caro rodolphe suonò mezzanotte mezzanotte disse lei è già domani ancora un giorno rodolphe si alzò per andarsene e come se il gesto compiuto da lui fosse il segnale della fuga emma di colpo divenne gioiosa hai i passaporti sì ti sei dimenticato niente no ne sei sicuro certo mi aspetterai all'albergo provenza vero a mezzogiorno assenti con il capo a domani allora disse emma con un'ultima carezza rimase a guardarlo mentre si allontanava rodolphe non si voltò emma gli corse dietro e protendendosi sull'acqua fra i cespugli a domani gridò rodolphe era già sull'altra riva e camminava in fretta in mezzo ai prati dopo qualche minuto si fermò quando la vide svanire con il suo abito bianco lentamente nell'ombra come un fantasma si sentì preso da un tale batticuore che dovette appoggiarsi a un albero per non cadere che imbecille sono mai esclamò imprecando violentemente non importa era un amante deliziosa e di colpo la bellezza di emma con tutti i piaceri che l'amore di lei gli procurava si materializzarono nella sua mente di nuovo si intenerì poi ebbe un moto di ribellione contro di lei non è possibile che io vada all'estero mi assuma la responsabilità di un bambino continuava gesticolando si diceva queste cose per rendere più ferma la propria risoluzione e d'altro canto le complicazioni le spese a no no mille volte no sarebbe un errore madornale grazie a tutti